Buongiorno, è il 19 marzo 2022, di nuovo una lettera dal tabernacolo Brana e dal fratello Joseph Brana. Qui c'è il fratello Joseph. Cara sposa fedele, e quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo, lo spazio d'intorno a una mezz'ora. Il fratello Brana ha detto, e lo cito, però qui ci sono sette tuoni consecutivi, proprio in fila, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Quel numero perfetto, sette tuoni di fila, e misero non facendo proprio uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette di fila. Dunque, i cieli non potevano scriverlo, i cieli non possono sapere niente di esso, nient'altro, perché non c'era niente per proseguire. Era un tempo rilassante. Era così grande che esso fu tenuto segreto agli angeli. Un citazione. E il fratello Brana continua, citazione. E quando i sette tuoni ebbero proferite le loro voci, io ero presto per scrivere, fu detto qualcosa. Non era solo un rumore, qualcosa fu detto. Egli stava per scrivere. Ma io udì una voce dal cielo che mi disse, guardate dove erano le voci, i tuoni, non in cielo, sulla terra. I tuoni non furono proferiti dai cieli, furono proferiti dalla terra. Citazione. E il fratello Brana continua, citazione. Sette, il numero perfetto di Dio. Sette, proprio di fila. Sette tuoni, emessi insieme, consecutivi, come se stessero sillabando qualcosa. Cosa? In citazione. E il fratello Joseph continua. Il desiderio del nostro cuore è di essere veri figli e figlie di Dio. Essere pronti per il suo rapimento in rapido avvicinamento. Così dobbiamo chiedere al Signore cosa darà alla sposa la fede rapitrice che serve. E il fratello Brana dice, e le ho cito, E credo che tramite quei sette tuoni saranno rivelati negli ultimi giorni allo scopo di radunare la sposa per la fede rapitrice. La citazione. Citazione. E i sette tuoni, proprio qui nella rivelazione di Gesù Cristo, è un mistero. Non dice la Bibbia che questa è la rivelazione di Gesù Cristo? Ebbene, allora c'è qualche mistero nascosto in ciò. Cos'è ciò? I sette tuoni lo detengono. Poiché Giovanni stava per scrivere, escesse una voce dal cielo, disse, Non scriverlo, ma suggellalo, suggellalo. Ponilo sulla parte posteriore del libro. Deve essere rivelato, sono i misteri. Citazione. E fratello Joseph continua, È lo Spirito Santo tramite il ministero che rivelerà alla sua sposa la rivelazione dei sette tuoni che le darà la fede rapitrice? Il fratello Brana dice, nella citazione, Ora, questo messaggero di Malachia 4 e Apocalisse 17 farà due cose. Primo, secondo Malachia 4, egli ricondurrà il cuore dei figli verso i padri. Secondo, Egli rivelerà i misteri dei sette tuoni di Apocalisse 10, i quali sono le rivelazioni contenute nei sette suggelli. Citazione. Il fratello Brana continua nella citazione, Questi suggelli sono sulla parte posteriore del libro e nel tempo in cui il settimo angelo suonerà, tutti i misteri che sono scritti nel libro saranno completati. e immediatamente il libro che era aperto e scritto all'interno viene chiuso. I misteri di Dio sono compiuti. E questi sono i misteri di Dio. L'andarsene della Chiesa e tutte queste altre cose. I misteri sono finiti. Quando quel settimo angelo suona, ogni mistero è finita. Chiunque possa essere, qualsiasi cosa possa essere, la parola di Dio non può fallire. Citazione. E il fratello Joseph continua, È così semplice. Il mistero tramite quei sette tuoni darà alla sposa la fede rapitrice. Solo Dio tramite il suo settimo angelo messaggero rivelerà i sette tuoni alla sposa. Se volete che i sette tuoni vi siano rivelati per darvi la fede rapitrice, non c'è altro modo di ricevere quella rivelazione se non riceverla dall'unica voce di Dio rivendicata per il nostro giorno. Non da me, non dal vostro pastore locale, evangelista o dottore, ma dal pastore di Dio per il mondo, premendo play. Venite ad ascoltare tutti i misteri rivelati. Ricevete fede rapitrice e riempite d'olio la vostra lampada. Domenica, alle 12, orario di Jeffersonville, mentre ascolteremo Dio parlare e rivelare se stesso in semplicità e portarci il settimo suggello. Le scritture da leggere prima dell'ascolto del messaggio Deuteronomio capitolo 29 versetti dal 16 al 19 Primo Re capitolo 12 versetti dal 25 al 30 Ezechiele capitolo 48 versetti da 1 a 7 Ezechiele capitolo 23 da 2 a 9 Matteo capitolo 24 versetto 31 al 32 Apocalisse capitolo 7 Apocalisse capitolo 8 versetto 1 Apocalisse capitolo 10 versetti da 1 a 7 E Apocalisse capitolo 14 E fino alla prossima Ricordate gli ucraini che stanno sfuggendo dalla guerra e dalla persecuzione Alcuni di loro sono già arrivati nella Norvegia in accordo all'app Lifeline E se ancora non l'avete sul vostro iPhone sul vostro smartphone scaricatelo dal sito brana.org e scaricate l'applicazione Lifeline per ricevere ed essere aggiornati su tutte le notizie E fino alla prossima volta Dio vi benedica e Shalom Grazie a tutti